Un incendio divampato nella tarda serata di ieri nei pressi di Viale Marconi a Cava dei Tirreni. Coinvolta un'auto parcheggiata, un vecchio modello di Lancia Ypsilon che verso le 23.30 è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto, gli agenti della Polizia di Stato di Cava dei Tirreni e i vigili del fuoco, che hanno prontamente placato l'incendio e messo in sicurezza l'intera aria in pochi minuti. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma dalle prime indiscrezioni sarebbero escluse le origini dolose. Un cortocircuito al motore sembra essere stata la causa più plausibile, considerando anche che proprio quella parte dell'auto è risultata la più danneggiata. Fortunatamente non ci sono stati feriti né danni ad altre vetture e saranno poi le indagini di queste ore a far luce sulle reali dinamiche dei fatti.